bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo sempre su Dead Rising 3 si è notato che mi piace molto questo gioco e oggi siamo su un'altra boss fight e niente signori oggi cercherò di farlo durare di più c'è del cibo qui dentro perché così piano zombie peggio è caduto schiena ha fatto male alla schiena ehi che diavolo è via dal mio cibo abbastanza per tutti vedo come mi guardi ma sai cosa voglio mangiare più carboidrati sono stufa del sedano a me non puoi mangiarlo tutto da solo stai a vedere bene il rutto finale bellissimo basta sto morendo di fame vattene subito dal mio cibo quindi praticamente noi dobbiamo ammazzare questa qua perché non condivide sui figli visto che siete così magri pensate di poter prendere tutto eh su un piatto d'argento signora lui aveva solo fame beh anche io cosa credi lei ha mangiato abbastanza mi stai dando della grassona sì io intanto faccio così senti io faccio così proprio davanti a lei dov'è senni te diputati da il tutto finale no b non questa è la boss fight schifosa che abbia mai giocato davanti a te stavano era manco presa si è buonissimo hai mancheccato tu sei una stuposa madonna scusate allora io voglio provare una cosa se mi metto qua dietro riesco a prendermi ehi ho manco preso garanzo a te stai senti basta che lo uccido se parecchio esiste c'è questo è caduto su vomita è la madonna che raga io posso giocere una cosa non mangiate con le testa mi sento davvero male è grazie a cazzo che ti senti male si mangiate cioè quindi si mangiate tutto tutto mi hai fatto fare indigestione meno male che gli ho messo con la tuta a questo punto guarda che tuta gli ho messo ma ragazzi vi posso dire una cosa che è schifo ok ok beh io posso dire questa cosa via ah cos'è già vedo cucina io faccio una cosa salvo la partita perché beh per quanto mi riguarda senti io faccio così anche io mangio un pochettino perché non perché voglio mangiare tutto io però non perché voglio mangiare tutto io però beh mi ha tolto un po' di vita qualcosa di normalezd mano magico pari limoccova che treman il buono valigna ma calache ma se la cura in manchi valutoni il 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 IL.... signori volete venire a mangiare allora io vi dico una cosa io non sono nemmeno se volete venire a mangiare guarda che bene guarda che bene allora allora io non sono almeno ci sono molte pietanze tipo questo ragazzi beh io vi posso dire una cosa se vi è piaciuto questo video io mi metto un bel mi piace commentate condividete iscrivete ovviamente non esitate a mettere mi piace perché ovviamente non esitate a consigliarmi video che vorreste vedere beh io vi posso soltanto dire una cosa seguitemi su instagram perché beh 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 se non seguite a sinistra è un tanto di grande potete seguire una persona molto bravo diciamo molto bravo a fare questo qua uh la bocca per il caffè buongiorno caffè ok ok ora è fatto finire questo coso per inserire e non è pienso di che non è che sta a tutti senza male ma faccio così ma lui ma lui ma lui è fatigliissimo questo è sempre così oh io non ho messo la linea eh ramadan ha dato un caffa microfono scusate guarda guarda io penso che sia più buono da mangiare questo ok ragazzi no seriamente noi ci vediamo domani con un prossimo video beh se vi ha fatto schifo questo video beh non il mio video diciamo la tizza con quel combattuto se vi ha fatto schifo commentate con schifo